Il decreto sul riordino delle province non sarà convertito in legge. È stato deciso all'unanimità dai partecipanti ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato, conclusasi ieri in tarda serata, alla presenza tra gli altri dei ministri Filippo Patroni Griffi e Piero Giarda. Oggi è stata convocata una riunione dei capigruppo presso il Senato per esaminare le possibili vie di uscita, ma sono poche le possibilità di poter convertire il provvedimento a causa di ben 140 subemendamenti. Il probabile naufragio del disegno di riorganizzazione proposto dal governo è stato salutato con favore dal presidente della provincia di Siena, Simone Bezzini, che lo ha definito l'epilogo naturale di scelte sbagliate. Dura invece la presa di posizione del presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, nonostante il fatto che l'ente da lui amministrato non sarebbe stato soppresso. Sapevamo che il decreto sul riordino delle province era un'operazione ad altro rischio, ha dichiarato, ma la sua mancata conversione per solo calcolo elettorale è un atto di pura irresponsabilità nei confronti del paese, in un momento di straordinaria difficoltà. L'ho detto fin dall'inizio che il governo aveva sottovalutato la complessità di questa operazione di riordino, ma a questo punto fermare la macchina in corsa presenta un rischio davvero inaccettabile.